Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Michelone. Buongiorno a tutti i belli e brutti. Video dalla base, dalla base principale. Siamo tornati alla base per dare un controllatino a casa che tutto vada bene, che adesso sono giù da mia mamma per lavoro. Bene, questo video qua è, allora, impostarlo così è un po', diciamo, proviamoci. Allora, essere ripetitivo ogni tanto su questa società di incompetenti, su questa società di incompetenti, essere ripetitivo perché per far capire, per far capire soprattutto alle generazioni del giorno d'oggi, del giorno d'oggi, e mostrare alle generazioni del giorno d'oggi cos'è il vero juventilismo. Io vorrei che tanti ragazzi nuovi, di 9, 10, 11 anni, quelli che incominciano a tifare la Juventus, io vorrei che andassero, ovviamente su YouTube, a vedere cos'era la Juventus nel passato, nel passato, e cos'è la Juventus adesso. Andate a vedere la Juventus del passato, quando si vinceva la prima Coppa UEFA, con Shirea, che c'era già Shirea, quando il più grande allenatore che abbiamo avuto, Trapattoni, portò tutte le coppe, quando si vinceva la prima Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, poi si è persa quella finale, malamente lì, qualcosa, vinta la Champions League in quella serata tragica, poi rivinta l'Intercontinentale, vinta la Supercupa europea. Io vorrei che tante di queste nuove leve andassero a vedere cos'era la Juventus, cos'era lo juventinismo. Questo vorrei che facessero, e che facessero il confronto fra quelle persone lì, quelli veramente che amavano la Juventus, Gianni Agnelli, Umberto Agnelli, il presidente Chiusano, Boniperti, Trapattoni, Gaetano Shirea, Tardelli, Rossi, Platini. Vorrei che andaste un po' indietro nel tempo, su YouTube ci sono tutti i filmati, per vedere cos'era la Juventus, per poi passare alla tria del Luciano Moggi, Giraudo Bettega, con Lippi in panchina. Andate indietro un po' a vedere cos'era la Juventus, che giocatori aveva la Juventus, i Del Piero, i Platini, i Devis, quel Buffon, ragazzi, ma c'è Montero, Rossi, Beniamino Vignola, Beniamino Vignola, che tanti giocatori non vengono neanche nominati, Beniamino Vignola, Cucureddu. Guarda, ragazzi, ce n'è un'infinità. Andate a vedere, che vi fate un po', vi illuminate il cervello di cos'era la Juventus e fate il confronto di cosa è adesso la Juventus. Ovviamente, ragazzi, ci sono stati anni bui anche quella volta lì, perché il dopo Trapattoni, prima di Marcello Lippi, sono stati otto anni, diciamo, di transito. Poi sì, c'è stato l'anno di Dino Zoff, con due trofei, Coppa Italia, vinta sul Milan, il Milan di Berlusconi, degli olandesi, poi è vinta la Coppa UEFA, poi ovviamente c'è stato l'anno di Maifredi, gli anni di Marchesi, ma quelli lì sono anni di transizioni, di fine ciclo che possono accadere. Invece, andate a vedere e fate il paragone di quelle Juventus fino a questa e vedete la differenza di persone, come lavoravano, l'amore che c'era per questa società, per questa maglia qui. Invece adesso questi balordi, questi balordi, questi schifosi che danno gli esempi sbagliati per le nuove leve che vengono su. Uno che va a festeggiare lo scudetto del Napoli dopo che ti smerda, sempre. Ma non ti vergogni, Elka, andare a festeggiare lo scudetto del Napoli. E poi ti dici, che vai a fare quelli lì, cazzi di culo, sì, perché è un bene per il calcio italiano. Ma che cazzo dici? È un bene per il calcio italiano? Perché il calcio italiano dobbiamo, in Europa... Ma fatti i cazzi di tua, ma pensa a riportare la Juventus, dove dovrebbe stare? Che cazzo vai a leccare il culo in giro? Ma vergognati, tu e quel cugino di merda che hai mandato lì in Olanda, che gli lecchi il culo in diretta, poi lo metti nel culo quando si gira. Sei un vergognoso, siete due balordi, due balordi, perché il terzo neanche non lo nomino, perché se lo guardate in faccia è cotto, quello lì è fuso, quello lì è andato, quel ragazzo lì. Ma voi due, voi due, io dico sempre che a voi questa Juve qua scotta in mano, perché siete lì pazzi e quelli veramente che erano in gamba, che dovevano essere quelli che portavano avanti il nome di Agnelli purtroppo sono morti, perché lo sapete che uno è morto di tumore, uno si è ucciso, ma quelli lì erano le persone in gamba che dovevano portare avanti il nome di Agnelli, il nome della famiglia, non questi due, perché questi due sono degli incapaci e io lo dirò finché muoio, perché a uno è un fuori di testa e a quell'altro non gliene frega un cazzo della Juventus. Vendila, tutto il popolo juventino vuole che tu vendila a Juventus, perché non vi vogliamo più, non vi vogliamo più, avete distrutto la Juventus, avete distrutto lo stile Juve, avete distrutto, ci state sberdando di fronte al mondo intero, ci prendono tutti per il culo per le porcate che ha fatto il tuo cugino Balordo e per quello che fai tu, che non te ne frega un cazzo della Juventus. Andate via, andate via, non vi vogliamo più, non vi vogliamo più, vendetela a chi cazzo volete questa società qua, basta che non siano i cinesi e andate fuori dai coglioni, perché a voi della Juventus non frega un cazzo, è un peso, l'abbiamo capito che è un peso, andatevene via, cosa aspettate? La fine dei processi? Fatevi processare in fretta e furia, che sia finito tutto e poi vendetela a questa cazzo di Juventus, non vi vogliamo più. Io vedere da piccolo, sette anni, piangere per una finale persa contro l'Hamburgo e vedere giocatori, cabrini, tardelli, ma ne abbiamo avuti e adesso vedere sto schifo qui, io ho pianto per la Juventus, ho pianto perché ero innamorato della Juventus, adesso piango perché mi avete spezzato il cuore, schifosi indegni, siete degli schifosi indegni, sparite da questa società, che la società siamo noi, perché senza i nostri soldi, senza quello che spendiamo per voi questa Juventus non esisterebbe mai, quindi invece di ringraziarci ci fate smerdare da tutto il mondo, vergognatevi, vergognatevi e vergognatevi. Io continuo a dire che il nonno Gianni Agnelli, Umberto Agnelli, ma lo stesso Boniperti, il povero Boniperti e l'altro lì, Chiusano, che vi guardano da lassù e dicono ma che cazzo fate? Ma che se potrebbero tornare giù? Io penso che prendereste tanti di quei calci in culo, da quelli là che... vergogna, siete la vergogna della famiglia, la vergogna della famiglia e io vi auguro tanta tanta sfiga, tanta tanta sfiga, vi auguro che non vi vada bene mai niente, mai niente, tutto quello che state facendo passare a noi tifosi juventini, a noi che piangiamo per la Juventus, che abbiamo il cuore spezzato, vergognatevi, 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 siete solo che due balordi. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, like, campanellina, dai che vedo che il canale si sta abbastanza muovendo, dai, ci ho fatto un favore al vecchio e questa mattina ci voleva lo sfogo perché ragazzi, i più piccoli, andate a vedere cosa era la Juventus, cosa era la Juventus, quella vera Juventus, no, la Juventus di adesso. Sul YouTube c'è di tutto, c'è di tutto, quindi, ok ragazzi, andate a vedere il più grande allenatore che abbiamo avuto a Trapattoni, quello era il più grande allenatore, Lippi, Lippi è dopo, ma Lippi, uno che perde quattro finali su cinque, per le sue, per le sue, boh, ma questo è un altro discorso, lasciamo perdere. Andate a vedere la Juventus di Trapattoni, cosa vinceva in Europa, nella prima acqua, la prima volta che era la Juventus e quando è tornato, che ha portato la Coppa UEFA. Ok, ragazzi, un bacione a tutti, belli e brutti, iscrivetevi al canale perché uno iscritto al giorno toglie il medico di tono, buon caffè, buona collezione, buona giornata, buon pranzo e buon tutto.